Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Oggi le metropolitane seguono l'orario prolungato con le ultime corse dai capolini al lune 30 di notte. Da ricordare che il sabato e anche il venerdì i lavori serali che stanno interessando la metro A sono sospesi. Le altre notizie da lunedì prossimo un intervento di potatura interesserà Viale Trastevere dal Lungotevere a Piazza Sonnino. È prevista una modifica alla viabilità e saranno deviate anche le linee H e 8 bus in direzione dei capolinea di Capasso e Casaletto.